Il segreto, trame gennaio, Mauricio sposo, Camilla Fugge, Nicolas innamorato. Ecco cosa vedremo nelle puntate di Il segreto in onda a metà gennaio su canale 5. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il segreto, la sua popera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il primo incontro tra Saul e Julieta. Gli ultimi spoiler rivelano che Camilla si darà alla fuga, mentre Nicolas farà una sorprendente rivelazione su Alfonso. Anticipazioni Il segreto, la scoperta di Camilla, Nicolas innamorato. Le anticipazioni delle puntate di Il segreto in onda a metà gennaio su canale 5, rivelano che Camilla scoprirà, che Hernando è andata a letto con Lucia Torres, tanto da avere il cuore spezzato. Dagli ultimi spoiler si evince, che la Valdesalce deciderà di allontanarsi da Los Manantiales per nascondersi presso la locanda di Emilia e Alfonso, mentre Hernando inviterà la sua amante a togliersi di mezzo, se lei non continuasse ad importunarlo. Inoltre farà ricadere la colpa su Camilla, tanto da rivelarlo a Beatriz, mentre a Puente Viejo giungerà il padre adottivo dell'ex intendente del governo, mentre Francisca rivelerà a Severo e Carmelo, che l'uomo aveva castrato il figlio all'età di 4 anni. A proposito Eusebio prometterà ai due uomini la restituzione delle proprietà rubate dallo scellerato figlio, mentre la Dark Lady eserciterà un carisma verso Garrigues, intanto Alfonso capirà che Nicola si è innamorato di Camilla, che per, non farà niente per rovinare il matrimonio con il Dost Casas. Infine inviterà Camilla a guardarsi le spalle della bugiarda Lucia il segreto, spoiler gennaio, Mauricio sposa Nazare dalle novità sugli episodi del segreto inunda a metà gennaio su canale 5, scopriamo che Carmelo si metterà d'accordo con Francisca per far entrare il figlio di Adela in una famosa accademia inglese. A proposito Adela penserà di seguire il figlio in Inghilterra in quanto incapace di perdonare Carmelo, dalle ultime novità si apprende anche che il sindaco di Puenteviejo offrirà alla madre di Ulpiano l'incarico di maestra di Puenteviejo, mentre Francisca troverà un modo per separare Mauricio da Fè. Infatti costringerà Godoy a sposare per procura la sua fantomatica cugina di nome Nazaria, intanto Fè minacerà Mauricio di andare via da Puenteviejo, se decide di sposare Nazaria, mentre Marcela inizierà a servire ai tavoli della locanda combinando degli imbarazzanti incidenti. Infine Beatriz ritornerà ad interferire tra la vita della figlia di Paco del Molino e Martias Castaneva, cosa succederà? Se volete sapere tutte le novità sulle trame del Segreto, vi basterà cliccare Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore, Serie TV Anticipazioni Il Segreto. Grazie a tutti.